Ciao ragazzi, ciao ragazzi stasera pizza pizza pizza, pizza, pizza allora prendo 200 ml di acqua e 100 ml di latte e li metto in un in un coso qua si è sporcando? è caro, non lo so adesso prendo un cucchiaio di sale e due cucchiai no, è la farina no, questo è sale ho messo sale non sei il bambito? adesso mi siedo? no, non sederti poi mescolo perché qui ho messo farina, zucchero e lievito di birra secco io uso il pane angeli voi usate quello che volete si, ma di solito il pane angeli anche l'aceto si, ma che aceto? ma che dici? mettiamo un po' alla volta nasmo che c'è il telemoto mmm, che pizza c'è il telemoto un po' alla volta un po' alla volta e intanto inizio a mescolare naturalmente l'acqua e il latte tiepidi non freddi sembra colla via Bruno via Bruno sì, ma lievito di birra e poi spenniamo la cosa? cosa devi fare? spenniamo la cosa? no, dopo spennedi adesso no ciao ciao ma Patrizia vedete l'albero Ilarona saluta Ilari saluta ciao e adesso i followers i followers i followers adesso devo fare tutto qua così 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 devo tutto spetasciare qua spetasciare affinché non mi viene bene scusate la patrizia sei zitta Patrizia ma se l'avevo abbassato chi è che ha alzato di nuovo ma non è vero si sente lei che ride perché è una gallina scusate tutte le fanze di Patrizia le fanze non so se ha fanze allora vabbè scusa comunque no poverina non è cattiva guarda è un po' una rompina però vabbè tanto lì si annoia allora non sa cosa fare parla male dietro di tutti è logico la facciamo alla marinara la pizza eh cioè pomodoro e aglio cosa c'entra il sale dai Bruno inquadra bene le robe qua guardate l'olio si l'olio che è quasi finito praticamente no vabbè adoro dobbiamo lavorarla ma viene allora ogni tanto che lavoro poi dopo cosa succede che devo farla riposare 40 minuti più uno no 40 minuti adesso qua dentro nella nella cosa poi la tolgo da qua la metto la stendo su un foglio di carta da forno e la guarda mamma e praticamente la la con il mattarello la stendo e poi la metto dentro nella pirofila sì la pirofila la placca del forno ok salutiamo a madre che ci sta salutando ok ciao a madre Bruno basta mangiarla su grazie mamma dai basta ok ci vediamo fra 40 minuti ragazzi siamo ancora qui e 40 minuti sono passati questa adesso tolgiamo e mettiamo il forno anche il forno sì così no e la la seconda realizzazione quando la facciamo dai Bruno levati non la facciamo e non la facciamo sì ciao allora ho deciso di fare così intanto tu inquadra questo prezioso benedì io intanto vado a prendere una cosa ecco bravo 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 corta venti ok ah il momento che prendo il mattarello ecco Mario che si schia è buono questa metterla la in fondo levati un attimo via adesso mi siedo e siediti e non fai niente siediti se vuoi siederti domani devo stirarle adesso facciamo il primo stendimento qua il primo stendimento mi ricordo quando lo facciamo il panificio ecco Mario che faccio adesso un ungo ingiamo 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 una bella l'ha rubata l'ha rubata il panificio di chi era vi accuso di porto una pizza un po' lo smonca lo smonca ma che sicuro lo smonca poi 180 gradi per 20 è giusto ma no bisogna dargli la lievitazione bisogna dargli un'ora di lievitazione poi di forno e poi bisogna anche buccherellarla ci ricordi che noi avevamo un po' un po' un po' un po' non so se è buona non so se è buona comunque un po' un po' un po' un po' un po' ragazzi ragazzi adesso buccherelliamo la dai via la torta io adoro ma che torta se non ci fosse io la mamma sarebbe serissima sarebbe serissima è la pizza non è la torta ti ricordi quando avevamo il rullo? no ma con le mani ma che con le mani con le mani no Bruno con le mani si fa la la focaccia ma con le mani con le mani le mani sporche io mi le so lavate comunque le mani anche io anche io allora che bello mi ricordo quando le farcivo in panificio si stanno inghiando Mario quando le farcivo in panificio ah le mettevano molte di piatta no le mettevo così non andava tanto senti senti che mi ringhia come mai Mario Mario Francesca senti senti ehm com'è? Francesca? 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 no Mario? Francesca? e sta mangiando lascialo mangiare tranquillamente no? senti 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 ehi si va bene che cosa mi ha fatto dai via fare manacce con il mio telefono Bruno mettiamo l'aglio l'aglio che io avevo precedentemente tagliato per velocizzare sennò andavo avanti 6 ore questo video scusate il tosse origano 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 no non senti non senti non senti che ti dà come te Mario? origano? no non c'era più di me non fatti niente proprio così sale ma è pochissima cosa levati va bene così ma anche poco levati va bene così di porca bestia allora 180 gradi forno ventilato a dopo ecco qui no sei deficiente ti ho detto di non condividere la cosa vabbè comunque questo è il risultato io non la tocco perché mi sono imbandito ma io ti ho detto di non toccarla tu dov'è che come c'è cosa qua dopo vi diremo come se allora il Bruno ha fatto conoscione adesso andiamo a tutti più forse ciao ciao ah scusatemi sono dimenticata conoscione del Bruno si è assorta allora questo è proprio il video comunque se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella ciao alla prossima ecco ma la tua fin ecco ma la tua